chi non indosserebbe una collana del genere interamente realizzata in oro docente indistruttibile prezioso e malleabile l'oro nelle mani di abili artigiani si trasforma in oggetti di eccezionale prezzo e rara bellezza diventando in alcuni casi espressione di indiscutibile virtuosismo tecnico proprio come dimostra questo torquis un collare rigido massiccio a tortiglione ornava il collo di una defunta inumata in una monumentale tomba del sepolcreto gallico di montefortino di arcevia una cinquantina di tombe scoperte alla fine dell'ottocento per lo più di guerrieri messi in relazione con i galli semi una delle tribù celtiche che migrano dall'europa centrale verso sud occupando nel corso del quarto secolo avanti cristo parte del territorio piceno a cordone ritorto con filo godronato a perline avvolto a spirale il collare si assottiglia le estremità superiori terminanti in un sistema di chiusura uncino configurato a doppia testa di serpente alle estremità inferiori invece il torquis si allarga confluendo in due elaborate terminazioni a forma di capitello segnato da quattro teste ferine e foglie di acanto e accompagnato da decorazioni a filo perlinato a filo a serpentina e da elementi fitomorfi davvero un motivo ornamentale di esuberante ma raffinata esecuzione che si completa nella parte interna con una rosetta duplice corolla in filigrana e con un occhiello e un gancio di chiusura ma non pensate che un solo gioiello bastasse a questa dama la sua parur comprendeva altri importanti ori ben tre corone in lamina d'oro e smalto di ispirazione naturalistica deposte una sul capo e due sul petto due bracciali armille spiraliformi a terminazione zoom orfa due anelli e poi un ricco apparato per la cosmesi con specchio in bronzo e pettine in avorio oggetti specifici del mondo femminile e un articolato servizio in ceramica in bronzo destinato al banchetto e al simposio i torques erano i tipici collari dei celti con forte valenza simbolica per donne e per uomini come dimostrano molte raffigurazioni ma non dimentichiamo che versioni in bronzo anche elaborate erano già in uso nel piceno antico il nostro esemplare in oro trova non trascurabili assonanze con prodotti di officina greca di età ellenistica che rimandano la grecia settentrionale all'asia minore e all'area del mar nero ma chi era questa signora sicuramente una figura femminile di grande rilievo la sua tomba principesca adattabile alla seconda metà del terzo secolo avanti cristo ne definisce un ruolo importante all'interno della comunità le eterogene associazioni funerarie con molti oggetti di importazione da vari ambiti alcuni anche tesaurizzati come le corone dimostrano che l'espressione di rango e di stato sociale passava attraverso l'adozione di modelli condivisi nel mediterraneo antico comuni al mondo greco etrusco italico ai quali non si erano sottratti neanche i semini dell'adriatico la nostra archeo degustazione ci trasporta nell'arceviese ed intorni nel silenzio di piccoli borghi fortificati di castelli che hanno lasciato traccia della loro storia immersi in un paesaggio dove il tempo sembra essersi fermato dove si riscoprano i sapori della memoria quelli di un antico legume come la cicerchia o la polenta del mai sottofile proprio di rocca contrada antico nome di arcevia principale alimento della cucina povera una storia di sapori che si interseca con l'identità del territorio dalla terrazza di palazzo ferretti l'invito è duplice venire al museo a vedere questo straordinario corredo e a conoscere la nostra collezione ma nel contempo il suggerimento anche quello di visitare i luoghi gustarne le specialità immergersi nella loro storia in questo caso specifico non potete non seguirne passo dopo passo il racconto dal paleolitico all'età romana che il museo archeologico statale di arcevia racchiude come un prezioso scrigno tutto da scoprire intanto noi brindiamo virtualmente con uno dei più pregiati vini bianchi italiani il verdicchio dei castelli di jesi alla riscoperta di una regione di un patrimonio in grado di sorprendere per un'estate tutta italiana